L'Italia ha bisogno di campioni al servizio del bene comune. Campioni di inclusione, sviluppo sostenibile, solidarietà, innovazione sociale. Parte a marzo il censimento permanente delle istituzioni non profit per conoscere e approfondire le caratteristiche di un settore così importante per il Paese. Sono 110.000 le istituzioni campione chiamate a rispondere. Se ne fai parte, fai la tua parte.